Basta, basta! Ma tu sei proprio mozzarella! Ma che è un mozzarella? È che ci ha avuto un enorme strappolo, le poppacce, capite? Che poi stranamente ha coinvolto tutti i dentini dentro la coscia, ha rampato tutto fino ad andare a coinvolgere anche il gluteo superiore. Volevano buttare la campa. Allora io me ne vado perché ho un appuntamento con un amico. Ma aspetta! Ma dove vai? Chi è questo? Chi è? È un amico greco che ho conosciuto al supermercato. Si chiama Anastasio. Ah, Pietruzzi Anastasio. Dicendo avanti dalla scuola. Conosco, bene, bravo. Giochetta di maledetto, bravo. Non sarai mica geloso, eh? E' geloso in assasso. Forse che soppette, forse cucuretta, baclecchina, fruscia da lupo, capirei? Anastasio non lo cacca neanche per piacere. Felice, i patti fra noi devono essere chiari, eh? Rapporto aperto senza il pocket. Tu puoi fare quello che ti pare. Puoi andare con chi vuoi. Negri, gialli, becchi, maiali, struzzi, nani. Sì, vado a sprucciare la mente con i nani. Addosso ai nani, che me ne frega. Asiatici, islamici. Ciao, ti saluto. Buona giornata. Spera, tu vai, Ingrid, adesso. Non ti scherzo. Io non sono capace di fare il romantico. Però io ci tengo molto a te. Tu mi acchiappi veramente. Mi rampi. Ma guarda, Felice, che anche tu mi acchiappi. Però adesso devo proprio andare. Ciao. Come te ne vai? Ti acchiappo e te ne vai. È illogico, scusa. E allora, se non ti acchiappavo, che facevi? Mi veniva addosso con la macchina. Mi caccava addosso. Scusa. E allora, se non ti acchiappavo. E allora, se non ti acchiappavo.